Si tratta di un connubio fra video, affidato a un grande regista francese, Luc Chaquet, premio Oscar, fino alla marcia dei pinguini, musica, ovvero una investigazione di due settori particolarmente intriganti della musica moderna, direi, ovvero il pop e il rap, rivisitati attraverso una sensibilità classica, mediante l'intervento mio, di Isabella Turso, che è una musicista trentina ormai affermata sui parcoscenici nazionali e internazionali, Michele Tadini, un grande regista del suono e con la collaborazione di un ensemble che nasce per l'occasione. Ciliegina sulla torta è Dario Vergassola, che tramite i suoi testi un po' corrosivi, appunto, che danno l'intitolazione allo spettacolo Storie di mare e piccole terre, vuole in fondo sollecitare una maggiore attenzione nei confronti del progressivo degrado che la nostra povera terra sta subendo.